Ringrazio il follower EnoEno per essersi accorto di un errore. Mi ero infatti convinto che il post incremento della n avvenisse dopo l'intera valutazione della struttura con l'operatore virgola. Ma non è così, perché in realtà questa viene considerata come un'istruzione sì coordinata con l'altra, ma autonoma nella sua valutazione, per cui prima di arrivare alla partica con la media, la n sarà già stata incrementata. E ce ne accorgiamo alla fine, io nell'output che avevo inserito in mezzo al resto del programma che vedete ho visto giusto la somma, che viene calcolato correttamente, non ne ho badato che la media, no, anche se c'era in mezzo una parte decimale, e mi ero convinto andasse tutto bene. La fortuna che ci ha pensato EnoEno, dobbiamo giustare quindi il tiro, non dobbiamo portare avanti di uno la n, ma usare semplicemente il valore della n, che è già quello giusto. Intanto che ci sono altre osservazioni, io non avevo specificato se interessava il calcolo della media con la parte decimale o no. Diversamente sappiamo che il calcolo, la divisione tra due interi, fornisce un numero intero perdendo la parte decimale. Possiamo allora utilizzare un cast più tradizionale, questo, o quello che in realtà sarebbe consigliato, che io però, soprattutto in terza, evito per non dover affrontare argomenti troppo prematuramente. Ma, visto che se ne è parlato, eccolo. Capite che è un po' più complicato da affrontare rispetto al cast tradizionale di prima. E questo è tutto. A risentirci.